Credi Crea, episodio numero 17 Ciao e benvenuti a questo episodio di Credi Crea. Mi chiamo Michela Mitrani e questo è il podcast che vi aiuta a produrre, pubblicare e pubblicizzare in modo indipendente le vostre opere. In questo podcast svelo quali strumenti usare per dare vita al vostro libro e quali risorse rendono più semplice questo processo. Bentornati ad un altro episodio di Credi Crea, il podcast per scrittori e autori indipendenti. Come vi avevo accennato nell'ultimo episodio, da adesso in poi avrò il piacere e l'onore di intervistare nelle prossime settimane un esperto in uno dei campi di cui parlo in questo podcast. Quindi scrittura, self-publishing, entrepreneurship e anche marketing. La prima di questi ospiti è Sonia Lombardo. Sonia è una blogger e web content editor. Ha collaborato con YouCanPrint alla realizzazione dei contenuti per i siti del loro network e con self-publishing vincente, come editor e correttrice di bozze. Da 2010 gestisce anche storiacontinua.com, un sito dedicato alla narrativa e all'editoria digitale. E' autrice della serie di libri dedicati al self-publishing, guide alla letteratura 2.0. Parlaci un po' di te, Sonia, e del sito che gestisci, storiacontinua.com Eh sì, ormai tra pochi giorni compie sette anni. Non so come ho fatto ad arrivare al settimo anno. Spero che non ci sia la crisi del settimo anno. E niente, insomma, era nato un po' come blog personale dove mettere le recensioni e poi piano piano si è trasformato in quello che è adesso. Insomma, una piattaforma dove gli autori possono trovare, gli autori che vogliono diventare indipendenti, possono trovare risorse utili sia sul self-publishing ma soprattutto, insomma, su nuovi modi di scrivere, di proporre i propri racconti. Ho capito. E tu stavi cercando di far diventare questa piattaforma? È iniziata in un modo e adesso si sta trasformando? Sì, perché piano piano, grazie ai commenti dei lettori, insomma, un po' guardando le statistiche su quali erano gli articoli più cliccati. Soprattutto ho notato che c'è molto interesse verso la piattaforma di scrittura Wattpad. E infatti, insomma, ho messo a disposizione anche un e-book. Che puoi tranquillamente dire il nome, che io ho letto e ho apprezzato molto tra le altre cose. Ah, già, giusto, vero? Tu l'hai letta? È così che ci siamo incontrati. Esattamente, ottimo. Che era Wattpad, giusto? Sì, sì, Wattpad. C'era molto interesse su come utilizzarlo al meglio e quindi l'e-book si chiama Wattpad di istruzioni per l'uso. Volevo chiederti, proprio su questa linea, hai scritto una serie di libri sul self-publishing. Parlici un po' del tuo self-publishing a confronto e di tutte queste altre guide, insomma, che hai scritto. Eh, sì, la cosa più interessante per me, spero anche per chi ci ascolterà questa intervista, è che tutto nasce dall'interazione con i lettori. E anche quell'e-book nasce dalla richiesta di una lettrice che mi ha chiesto sarebbe bello avere un posto dove trovare un confronto tra le varie piattaforme, quali sono i servizi, la spesa che si potrebbe andare ad affrontare. Quindi l'e-book è stato impostato in questo modo. Ogni servizio, per ogni servizio sono elencate una serie di servizi, qual è l'eventuale spesa che si deve andare ad affrontare. E poi ho intervistato molti gestori delle piattaforme, da YouCanPrint a Streetlib, che all'epoca era Narcissus. Sì, esatto. E ho intervistato anche gli autori che le hanno utilizzate con successo. Ho capito. E quindi si trovano tutte queste serie di risorse. Tra le altre cose, se non sbaglio, ti hai intervistato anche Andrea Betoncelli di Gamobu, proprio per questo tipo di servizio che hai fatto, giusto? Sì, lui ha scritto molti articoli interessanti al self-publishing. Anzi, chiunque voglia autopubblicare deve assolutamente seguirlo. Assolutamente. È una cosa che raccomando anche io. Andrea è un grande in quello che fa. Molti dei suoi articoli del self-publishing mi hanno dato a me una prospettiva diversa, proprio nel campo. Sono ben scritti, semplici da digerire per chiunque, insomma. Sì, infatti. Se ti può, ma ti vorrei chiedere, tu come definiresti la pubblicazione indipendente ad una persona che non ne hai idea di che cosa sia? No, bella domanda. Anche se devi dirlo, che ne so, un amico che è interessato, qualsiasi persona, tuo fratello, tua sorella. Sì, mi è capitato in realtà molte volte, perché io ho collaborato con Duke and Print, ho collaborato diversi anni, però le persone a cui spiegavo il mio lavoro mi dicevano sì, ho visto il sito, però che cosa fa? Sì, ma alla fine che cosa fa? Tutto potrebbe essere molto semplice, ma anche in questo tempo molto complesso. Esatto. Perché il primo approccio, come è stato anche il mio, è quello di voler vedere il proprio libro pubblicato a tutti i costi ed è effettivamente uno strumento molto semplice, accessibilissimo per chi vuole fare questo. Dopo ti rendi conto che può diventare qualcosa di più e che ha bisogno di un progetto, di un obiettivo da raggiungere e quindi devi iniziare a studiare, studiare come si fa una copertina, cosa alla quale io sto ancora, sto lottando con diversi grafici per avere delle nuove copertine, devi studiare come far arrivare poi soprattutto questo libro ai lettori, devi capire a quale lettore vuoi rivolgerti. Quindi ci sono tante cose insomma da considerare, non è solo scrivere un libro, è diventato come penso tu stessa abbia coniato l'autore 2.0, deve saper fare diverse cose allo stesso tempo. Esatto, a quelli che me lo chiedono io consiglio spesso in realtà di iniziare a scrivere, a fare conoscere la propria scrittura, da lì poi si capisce chi è il proprio pubblico, che poi è esattamente come sono nati i miei book. Prima ho iniziato a scrivere, dopo in base alle richieste, al contatto con il pubblico, allora piano piano ti definisci come scrittore, allora si arriva ad avere un libro, è un libro di qualità che può raggiungere un pubblico, perché insomma l'offerta è molto ampia ed è difficile passare inosservati, cioè è facilissimo passare inosservati, questo è il rischio. Secondo te Sonia, quali sono le maggiori differenze tra la pubblicazione indipendente e quella tradizionale? Nella pubblicazione indipendente sei editore di te stesso, magari insomma si sente questa cosa spesso, però è vero, piano piano ti rendi conto che puoi diventare un imprenditore di te stesso, mentre... In inglese dicevano gli autori imprenditori, insomma, autobrenner. Sì, sì, infatti, e che soprattutto puoi lavorare continuamente al tuo libro, mentre nell'editoria tradizionale un libro ha una vita piuttosto breve, a meno che non hai un grandissimo successo, anche se è raro, sono delle eccezioni, nell'autopubblicazione tu puoi lavorare al tuo libro continuamente, non esce fuori edizione, quindi lo puoi migliorare, lo puoi riproporre in varie forme, fin quando non trovi la tua dimensione, ecco. Questa è una cosa che mi ricordo anche, dice spesso Hugo Howe, un altro autore indipendente di fantascienza famoso, che dice il tuo libro non diventa mai vecchio e non hai alcuna fretta, una volta che sta lì, stali per sempre. Esatto, esatto, no, io comunque seguo molto anche Joanna Penn, si impara molto a seguire gli autori d'oltre oceano. Senti, prima avevi fatto secondo me un rifacimento interessante riguardo i costi, quanto costa secondo te pubblicare per bene un libro indipendente? Con parola per bene intendo facendolo correggere, dandogli una copertina fatta da un professionista, magari promuoverlo con marketing, queste cose qui. Secondo te, Sonia Lombardo? Io ho scritto due articoli su questo argomento, quanto si può spendere e quanto si può guadagnare. Diciamo che la spesa minima guardando i servizi editoriali delle stesse piattaforme può partire anche dai 400 euro e si può recuperare, insomma, nell'arco di qualche mese se inizi a vendere bene. Adesso non mi ricordo tutti i dettagli, comunque ci ho dedicato un po' di tempo all'argomento. Se invece si rivolge ai freelance, credo che la spesa possa anche alzarsi. Di parecchio? Sì, sì. Comunque i servizi di You Can Print o di Streetlib sono piuttosto accessibili. Ho capito. Quindi loro forniscono un pacchetto che comprende diverse cose, questi servizi qui di cui stai parlando? Streetlib da poco ha lanciato un servizio di coaching, si dice così? Sì, coaching, yes. Esatto. Da poco ho lanciato, non so come stia andando, e la spesa, ho visto anche una spesa di 1400 euro, che comprende la consulenza e l'affiancamento per tutto il percorso di pubblicazione. Guarda, non la sapevo questa opzione. Io sono uno di quei autori indipendenti che si finiscono DIY, do it yourself. Quindi praticamente non sapevo che ci fosse l'offerta insomma da parte di queste firme di pacchetti. Io praticamente faccio un po' tutto da solo e ovviamente poi affido a persone terze, per esempio la creazione di una copertina, con piattaforme come 99designs per esempio, che possono funzionare in quel modo. Però sì, c'è anche quindi l'esistenza di questi pacchetti forniti. Anche, oppure puoi comprare dei singoli servizi, anche solo la valutazione, non solo l'editing, e allora la cosa diventa più accessibile. Se vuoi essere in pratica seguito all'inizio e alla fine, la spesa può diventare anche consistente. Ho capito, quindi c'è quell'opzione, però stai dicendo ovviamente costa. Sì, costa. Per il momento costa. Senti, volevo chiederti che poco tempo fa un'indagine dell'Ufficio Studi dell'Associazione Italiana Editori faceva presente come, e adesso cito dall'articolo apparso nello stesso sito, nel 2015 quasi un titolo su due, che equivale al 41.4% degli ebook pubblicati e self-publishing. E loro parlano di circa 25.817 titoli. Per un confronto erano solo 146 nel 2010. Io so che tu hai scritto recentemente un articolo su questo e volevo chiederti, secondo te, a che cosa è dovuta questa crescita? Questa crescita è dovuta alla grande informazione che c'è stata, da siti come quelli nostri. Ricordo storiacontinuo.com, credinellatostorio.com, giusto per ricordare i credi e la storia. Come si dice, in Italia ci sono più scrittori che lettori. Questa è una cosa che non sei la prima che lo dice. E quindi è diventato facilissimo scrivere voglio pubblicare il mio libro su Google e ci sono tantissime informazioni su come fare, sono tantissimi tutorial e poi l'ebook ovviamente la versione digitale si può fare in pochi minuti, basta informarsi. Sì, precisamente. E poi pubblicarlo anche in un negozio. Allora, al di là del, diciamo, non sto facendo un discorso di qualità, sto parlando proprio di numeri, di facilità di utilizzare i servizi. Certo. E quindi credo che si sia arrivato a questo punto. Non so se, magari è un bene, ecco, non ho detto che sia. Da questo 146 a quel 25.817, ovviamente non è che tutti questi titoli magari hanno quel tipo di qualità che uno si aspetta. Però c'è stato un incremento. Io ricordo una statistica che non so quanta percentuale di ebook in realtà venivano scaricati ma non letti o abbandonati, lasciati a metà. Quindi non è detto che tutti questi ebook vengano poi effettivamente letti. Ho capito. Senti, cambiamo un pochino argomento e andiamo ad una risorsa di cui si parla, anche associata con quello di cui abbiamo definito l'autore imprenditore e o autore 2.0. Secondo te i social media sono utili agli autori indipendenti? E domanda a parallela. Se tu dovesci sceglierne solo due, quali sarebbero e per quale motivo? Solo due. E io sono innamoratissima di Twitter. Mi piace tantissimo. diciamo, è proprio l'ideale, la brevità per me è l'ideale. E quindi mi ci ritrovo molto su Twitter e mi dispiace che sia un po' così, non cresca moltissimo. E ovviamente poi Facebook è imprescindibile per un autore che vuole farsi conoscere. Capito. Quindi Twitter per preferenza e Facebook per necessità. Sì, per necessità, anche perché ti permette di fare pubblicità, di acquistare gli spazi pubblicitari, anche diciamo senza una spesa eccessiva. Ho capito. E quindi di essere presente, di spingere l'ebook, il libro che hai pubblicato. Volevo chiederti, tu cosa ne pensi di Goodreads? Lo uso, l'ho scoperto diversi anni fa, però non è che ci passi moltissimo tempo. L'ho utilizzato anche per promuovere qualche autore, così creando una vetrina. Prima, devo dire che fine qualche anno fa ci passavo più tempo sul forum, così, ma poi l'ho abbandonato come l'ho abbandonato anche a Nobby all'inizio. Ho capito. All'inizio lo usavo e poi l'ho abbandonato. Giusto per far presente ai nostri ascoltatori che Goodreads è un social media basato su lettori slash autori e ci sono delle risorse come appunto stai dicendo tu, forum, anche club, book club, insomma modi per promuovere libri in modi differenti. Bene, grazie del tuo punto di vista su quel Twitter e il Facebook. Twitter quindi praticamente è il tuo preferito, ci stai dicendo? Sì, in assoluto, in assoluto. La sua brevità, insomma, perre di saggezza in 140 caratteri, insomma. Sì, anche racconti mi piace perché è diventato anche una piattaforma narrativa. Ho capito. Sì, la brevità che stimola la creatività. Bene, questa qui la devo twittare a qualche parte, creatività. Ottimo. Se la devi twittare solo tu twittare. Senti un po', l'altro giorno stavo orbitando attorno al sito Penna Blu che tu conosci molto bene, è dello scrittore e blogger Daniele Imperi. Mi sono imbattuto nel suo articolo intitolato Problemi di visibilità per un autore indipendente. Voglio leggerti un passaggio che mi è sembrato davvero interessante proprio riguardo questo articolo. L'autore del ventunesimo secolo non è anonimo. Non potete pretendere di ottenere visibilità rendendovi invisibili. Oggi bisogna metterci la faccia. Che piaccia o meno? A me non piace, ma ce l'ho messa lo stesso. Quando entro in un blog, la prima pagina che leggo, prima ancora dei post, è quella chi sono. Se non c'è una foto, resto deluso, perché è come parlare con una persona che ha nascosto la testa dentro un sacchetto di carta senza neanche i buchi per gli occhi. Sonia, quanto è importante per un autore metterci la faccia e qual è il modo migliore di farlo? Ma io, certo, se parliamo di un autore che, come dicevamo prima, deve diventare imprenditore, allora è fondamentale. Perché la gente vuole sapere chi sei, come la pensi. devi costruirti un gruppo di seguaci, in poche parole. Però credo che dipenda sempre dall'obiettivo che ha l'autore. Puoi creare un marchio, invece di mettere in mostra la tua faccia. Puoi creare un tipo di scrittura che ti distingua da tutti gli altri. Oggi è anche possibile creare dei profili per dei personaggi. Dipende da qual è il tuo obiettivo, da quanta voglia hai di metterti tu in prima persona. O forse vuoi mettere in prima persona la tua scrittura. Io, per esempio, se vedo un blog, magari prima, passa un po' di tempo prima di andare a leggere la biografia dell'autore. Non ho questo stesso, non faccio questo stesso percorso. Sì, infatti. E quindi non credo che tutti facciano gli stessi percorsi. A volte si ci affeziona un personaggio, per esempio. Dopo ti domandi, ah, ma chissà chi l'ha scritto. Quello che serve... Esatto, esatto. Quello che serve, forse è una piattaforma dove raccogli tutte le tue cose e dove dai diversi livelli di informazioni a seconda degli interessi dei diversi tipi di lettori. Chi hai? Almeno, credo. No, ha senso, sicuramente quello che dice Daniele dal punto di vista di quello che abbiamo parlato, autore, imprenditore, ovviamente non può essere troppo timido, nel senso che devi saperti promuovere, ma tu stai dicendo che ci sono modi e modi di farlo, insomma. Esatto, sì. Secondo me sì, poi sicuramente Daniele avrà più ragione di me, sicuramente. Senti un po', Sonia, ma hai progetti in cantiere o libri addirittura d'arrivo che vorresti condividere con noi? Allora, io dopo tanto tempo mi sto dedicando di nuovo alla scrittura narrativa, perché ho trovato questa piattaforma, si chiama Texture Writer. Che cos'è? Parlacelo un po'. Ti permette di creare dei racconti interattivi, che la gente può navigare, può cliccare e quindi scegliere differenti percorsi a seconda di dove clicca, ed è molto facile perché utilizza un metodo del drag and drop, quindi tu stabilisci dei link e poi li puoi evidenziare con dei pulsanti così che tu sposti. Non l'avevo mai sentito, sembra molto interessante. No, in realtà ce n'è diverse piattaforme dove anche senza conoscere il codice tu puoi creare dei romanzi interattivi. Ho capito. Si trovano sul sito storia continua, le ho elencati, sono diversi. E quindi siccome è molto facile, insomma, mi è venuta un'idea di racconto e sto sperimentando. Con questa piattaforma. Sì, per il momento mi diverto. Poi sto cercando di prendere la certificazione in Creative Coding sulla piattaforma Future Learn. È una cosa simile a Corsera? Non so cos'è. Sarebbe praticamente una piattaforma che sponsorizza corsi fatti da università, però è gratuita. Ah, sì, sì, esatto. Sì, sì, esatto. La stessa cosa. Sì, la stessa cosa. Anche se è più difficile di quanto avessi immaginato l'inglese. Guarda, devo dirti, ho seguito alcuni corsi, sì, non è facile. Perché è in inglese e parla di codice, quindi... Sì, sì, non deve essere facilissimo. È come io ho provato a seguire un corso di astrofisica, se non sbaglio, con Corsera. Questa piattaforma in inglese non era affatto facile, infatti non l'ho passato. Però, insomma, è una specie di cosa che ti invita a spingere i tuoi limiti da quel punto di vista. Comunque, per persone curiose, tanto non devi pagare nulla, penso che possa essere utile. Mi fa piacere sapere che anche tu cerchi, insomma, di studiare virtualmente, se posso dirlo in questo modo. Ah, sì, sì, se posso studio tutto quello che c'è da studiare. Senti, Sonia, dove possono trovarti i nostri ascoltatori su internet? Allora, innanzitutto su storiacontinuo.com, ovviamente su Twitter. Ovviamente, immediatamente questo. Andate a dare un messaggio o fate qualcosa a BeFriended, questa Sonia Lombardo su Twitter tutti in massa da adesso. Se siete su Twitter, allora vi prendo in considerazione, insomma. Altrimenti nessuno, non vi si fila. Ascoltatori siete stati avvertiti su Twitter o niente. Esatto, no, poi c'è una pagina Facebook, sempre di storiacontinuo. Poi, tu lo sai, sono su LinkedIn, ce l'ho tutti, tutti, tranne Instagram. Instagram, perché non sono una da foto. Guarda, non sei unica, anch'io non ho Instagram anche, perché non riesco a districarmi con più di 3-4 social media allo stesso tempo. Esatto. Senti, Sonia, grazie tantissimo per le tue risposte. È un titanico in bocca al lupo a te e ai tuoi progetti futuri. Grazie mille, è stato un piacere. Spero che questo episodio di Credi Crea vi sia stato utile. Se lo è stato, aiutatemi a renderlo più facile da trovare, recensendolo su iTunes e condividendolo con amici e conoscenti. Questo è l'unico modo per aumentare la sua visibilità e permettere a sempre più persone di usufruire di questa risorsa. Se volete rimanere costantemente aggiornati su nuovi episodi, su miei blog post o sulle mie pubblicazioni, potete abbonarvi alla mia mailing list su www.credinelatuastoria.com slash iscriviti Lo ripeto è credinelatuastoria.com slash iscriviti Bene, vi lascio con un saluto e dandovi appuntamento al prossimo episodio. Fino a quel momento, ricordate La vostra vita è una storia. Cominciate a raccontarla.